Mi chiamo Silvia Piscitelli, sono la responsabile dell'ufficio del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana che si occupa di innovazione e supporto il Delegato Tecnico Nazionale nelle sue attività. Questa giornata con Fondazione Mondo Digitale è frutto di una programmazione insieme di alcuni incontri che sono scaturiti da un evento in cui Croce Rossa Italiana ha partecipato e dove abbiamo conosciuto la fondazione e a cui appunto sono seguite delle valutazioni su come le competenze della Fondazione Mondo Digitale potessero essere messe a servizio delle persone che noi aiutiamo attraverso i nostri volontari. e quindi abbiamo organizzato questa due giorni con 100 volontari che vengono da tutta Italia e che si alleneranno nella loro palestra dell'innovazione.